Benvenuti nel canale, amanti degli italiani, con le ultime notizie di oggi. Anche la meravigliosa Silvia Toffanin sta attraversando un momento di grande sofferenza. Molti si sono chiesti perché ai funerali di Stato del suocero fosse seduta in seconda fila. Il motivo è molto semplice. Sono stati indetti i funerali di Stato per l'ex premier Silvio Berlusconi. Sono stati trasmessi numerosi speciali in sua memoria, non solo sulle reti Mediaset, ma anche sui social media, dove i messaggi a lui dedicati pullulano ovunque. Molti colleghi e VIP hanno voluto condividere con i loro seguaci foto, principalmente ricordi del passato, per commemorare l'uomo che per primo ha dato loro lavoro. Molte persone hanno anche voluto essere presenti in chiesa, come la splendida Alba Parietti, che ha voluto ricordarlo come un uomo speciale durante una sua intervista. Anche Barbara D'Urso, visibilmente commossa e con il cuore spezzato in mille pezzi, ha fatto lo stesso. Tuttavia, tra le donne che sono state maggiormente nel mirino in quel momento così delicato per la famiglia Berlusconi, c'era Silvia Toffanin, compagna storica da più di venti anni e compagna di Pier Silvio. È apparsa molto affranta. Ad infonderle coraggio poco prima della cerimonia è stata un'altra punta di diamante delle reti Mediaset, o meglio, una delle sue regine, Maria De Filippi. Negli scorsi mesi, Maria ha subito un altro terribile lutto, la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Maria è stata presente per sostenere Silvia durante il funerale e si è distinta per la sua scelta di indossare una camicia bianca, mentre tutti gli altri avevano optato per abiti di lusso, per lo più di colore nero. Silvia non si è seduta con i suoi bambini, Lorenzo, Mattia, Sofia e Valentina nel banco con il compagno, ma in seconda fila. Questo è stato notato anche dai numerosissimi telespettatori che hanno seguito in diretta le esequie dal loro salotto. Molti altri hanno preferito seguire l'evento dai maxischermi presenti in piazza Duomo. All'uscita del Duomo, i figli di Silvio si sono fermati qualche istante, visibilmente commossi, per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato tanto affetto nei loro confronti e, soprattutto, verso il loro papà. Silvia Toffanin, seduta in seconda fila, ha vissuto la cerimonia in modo più riservato perché Pier Silvio, essendo un funerale di Stato, si è dovuto sedere in prima fila insieme ai suoi fratelli e a Sergio Mattarella. Del resto, anche gli altri coniugi hanno dovuto fare la stessa scelta della splendida conduttrice veneta. In ogni caso, Silvia è una persona molto riservata e ha capito che, nonostante faccia parte della famiglia Berlusconi, quel momento richiedeva che il suo compagno stesse vicino ai suoi fratelli, in particolare a Marina. A Pier Silvio è stato affidato il compito di ricordare con un messaggio commovente il suo papà, un padre che sarà certamente molto orgoglioso di lui. Grazie per aver guardato l'intero video. Se ti è piaciuto, metti un mi piace e commenta la tua opinione in modo da poter discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e ricevere aggiornamenti sulle interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.